Ciao amici di calciomercato.com e bentornati con la FIFA del Lupo Siamo tornati con un nuovo video Oggi risponderò ad una vostra domanda molto frequente Diciamo che da oggi inizierò questo nuovo format Nel rispondere alle vostre domande Quindi ragazzi scrivete subito qui sotto le domande che voi vorreste farmi O comunque inerenti al mondo competitivo Quindi scrivete qui nei commenti E io magari nel prossimo video risponderò a quella magari un po' più gettonata Allora andiamo a prendere la domanda di oggi Cioè la classica domanda che si fa Come si diventa pro gamer? Innanzitutto vi devo dire ragazzi che la parola pro gamer Quindi deriva da professionista no? Professionista gamer Quindi significa che è un videogiocatore stipendiato Quindi non conta soltanto l'abilità Perché ultimamente si fa questo diciamo paragone Che chi è molto bravo a videogiocare un gioco diventa pro gamer No non è così Il pro gamer è quello bravo che a sua volta però viene anche stipendiato Chiaramente se sei molto bravo Hai molte ma molte più probabilità Anzi quasi sicuramente di diventare pro gamer Proprio perché insomma grazie alle abilità Fai la differenza rispetto ad altri videogiocatori Diciamo che io ho iniziato abbastanza casualmente Quindi vi racconto anche in base alla mia esperienza Ma poi alla fine per tutti è la stessa cosa Per tutti quelli che lo sono diventati In Italia non sono tantissimi però E' così insomma che un po' funziona Intanto bisogna entrare nel settore eSport Perché chiaramente se non partecipate ad eventi, a tornei Sia online ma soprattutto ragazzi dal vivo Perché sono quelli dal vivo che fanno veramente la differenza Allora solo in quel caso voi potrete diciamo fare questo passo in avanti Perché ovviamente se voi giocate soltanto così a livello tra virgolette amatoriale Non riuscirete mai a fare nulla Detto questo quindi vi consiglio di partecipare a tutti i tornei Che voi praticamente avete sia vicino casa Ma comunque anche a due ore di macchina Facciamo un esempio no? Questi tornei dal vivo però Intanto iniziate online ma poi soprattutto dovete partecipare a questi tornei dal vivo Voi mi direte ma dove li vedo? Non so dove sono proprio questi tornei Allora io vi faccio vedere il sito di Jack Che ha giochi elettronici competitivi Che praticamente vi mette Non soltanto per FIFA in questo caso Perché sapete che io sono un videogiocatore di FIFA Però vi mette tutti i tornei a livello Ma diciamo semi pro Perché in realtà sono tornei amatoriali molti E in questo caso sono più magari per far conoscenza del gioco del livello competitivo E quindi però andate ad affrontare gente veramente molto molto forte E quindi vi potrete insomma confrontare contro altri avversari del vostro livello Magari superiore o inferiore Comunque da lì potete già avere delle basi Quindi ragazzi andate su questo sito che come potrete vedere in schermata Selezionate insomma praticamente il gioco che voi volete O comunque il gioco in cui praticate i sport E praticamente vi fanno vedere magari gli ultimi tornei che ci sono da qui a magari un mese Quindi è molto importante questo da seguire perché se volete praticamente da lì potete scoprire Quali tornei ci saranno o meno Diventare pro gamer in conclusione significa Partecipare a tornei sia online che dal vivo Quindi offline Fare buoni risultati Dopodiché dovrete insomma come dire Dopo che vi siete fatti un nome avrete la possibilità di andare a sentire team Sia del settore che magari sponsor esterni E da lì può nascere insomma tutta la vostra carriera da pro gamer Detto questo lasciatemi tante domande qui sotto Io vi risponderò piano piano per ogni video Magari andremo ad ampliare alcuni discorsi che per voi sono un pochino più interessanti Noi ci vediamo presto con un prossimo video Grazie a tutti